Sfida a salvezza al San Filippo Franco Scoglio, un po' più tranquillo il Messina, tredicesimo a 44 punti, brividi per il Potenza, quindicesimo a quota 41 a entrambe. Le serve una vittoria per scattare verso la salvezza il Messina con Plescia in attacco, mentre il Potenza con Pietro De Giorgio, subentrato all'esonerato Marchionni, che lancia dal primo minuto Catturano e Di Grazia, arbitra Ancora di Roma 1. Prima azione della partita, minuto 7, corner di Di Grazia mischia, ma Daloni con il più facile dei tap-in porta in vantaggio il Potenza. Sottomisura il tocco del difensore che fa 0-1 sul bel corner battuto da Di Grazia. Tra i rimpalli, sbuca Maddaloni e il Potenza è subito avanti. E sempre da calcio d'angolo molto pericolosa la squadra di De Giorgio, qui palla che esce di pochi centimetri. Fumagalli non era uscito su questo corner di Di Grazia. È una potenza molto tonico nella prima fase di partita, Catturano anticipato da una grande chiusura di Pacciardi. Deve salvare in calcio d'angolo. Continua la pressione dei Lucani, stavolta da destra a Ziosmanovic con il destro a metà, tra un tiro e un cross. Ma l'impatto di mister De Giorgio produce un primo tempo davvero Gagliardo, del Potenza ancora di Grazia. Trova i pugni di Fumagalli, poi a Ziosmanovic con un tentativo che non produce effetti. Praticamente il Messina quasi non si vede nel primo tempo se non sul finire con questa occasione per salvo. C'era però anche un fuorigioco di partenza da parte del capitano Ragusa. Secondo tempo, altra musica, entra Rosafio Pennella per Emmausso. Decimo gol in campionato, miglior stagione realizzativa per il talento di Scampia, che fissa il punteggio sull'uno a uno. Rosafio, appena entrato dalla panchina, dipinge un grande assist ed Emmausso pareggia. Rischia, poi Manetta, scippato da Caturano, ex di giornata, punta la porta, aspetta, vorrebbe un assist e perde una grande occasione. Partita generosa ma poco lucida sotto porta per il nove del Potenza, che qui spreca una buona occasione. Continua invece a spingere il Messina, salvo per Zunno. La girata volante termina alta. Ma è un Messina adesso in palla e allora minuto 72, grande imbucata per giunta, l'assist per salvo. Il primo gol tra i professionisti del ragazzo classe 2003 messinese che va a correre sotto la curva sud per prendersi l'abbraccio del popolo della sua terra. Il primo gol tra i pro, salvo 2 a 1. Comunque non si dà per vinto il Potenza, secondo tempo bellissimo, Steffè sull'assist di Caturano. Sigla il 2 a 2, un gol pesantissimo per Demetrio Steffè. Il pareggio del Potenza, la reazione della squadra lucana con l'incornata di Steffè. Finale di partita teso con il Messina che prova ancora a spingere sempre Rosafio, molto ispirato, sinistro, paratona di Alastra. C'è anche spazio per l'ingresso di Jacopo Fumagalli che gioca per la prima volta tra i professionisti insieme al papà Ermanno. Bellissima storia nel Messina. Soprattutto il Messina festeggia la salvezza matematica per il Potenza discorsi rimandati all'ultima partita in casa contro la Virtus Francavilla.